Oggi appoggia per il ministro Salvini anche Nicola Giorgino, ex sindaco di Andria. Come mai qui oggi? Ma innanzitutto perché credo che siamo tutti impegnati in questa campagna elettorale delle europee per cercare di portare al centro gli italiani in un nuovo contesto europeo portando avanti l'idea che Matteo Salvini e tutti i partiti che si identificano in certa politica sovranista stanno cercando di portare avanti per modificare l'Europa e rafforzare l'identità nazionale. Poi per sostenere il sindaco Lantelli alla lista della Lega perché credo che sia fondamentale una riconferma di un sindaco dando più forti alla Lega e ai candidati della Lega. Che sensazioni ha per il 26 maggio? Che ci sarà una grande affermazione in Europa e in Italia della Lega e anche nel Mezzogiorno d'Italia. Credo che ormai si può parlare di un partito a livello nazionale che incontra le simpatie e l'empatia di tutti gli italiani, soprattutto quelli del Mezzogiorno. Vuole sbilanciarsi di una percentuale? No, le percentuali si fanno con i voti, raccogliamo i voti.